Il novembre, domenica 15, si, fatevi vedere le mani su, sulle mani ragazzi, ai matrimoni ci si diverte come, ci si diverte sempre, tutta la santo e le mani su, posso toccare il cielo? Cos'è stato un canale fantastico, dove vai? A ritmo, per chi di benessere ragazzi, che ingresso, c'è nell'inizio uno sprint, si, e adesso voglio sentirevi tutti insieme, e per i nostri sposi, i pimp, i pimp, i pimp, i pimp, i pimp, i pimp. Hurra!